Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, nonostante la sua veneranda età beautiful continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, da quando la sopa ha iniziato ad essere trasmessa in Italia, dal 1990 L'ingrediente principale delle trame che caratterizzano la sopa opera è sicuramente l'intreccio e gli amori dei protagonisti, condito da quel pizzico di passione che non guasta E a proposito di intrecci, secondo gli spoiler ci saranno nuovi socchi in casa Forrester grazie a Sheila che si presenterà a sorpresa alle nozze di Fini Steffi La rivelazione di Sheila.La donna annuncia di nascosto al giovane di essere la sua madre naturale Intanto Riggi Gnaro, confessa di sentirsi sollevato del fatto che nessuno stia interrompendo il matrimonio Le ultime parole famose. Dopo la rivelazione di Sheila, Steffi si avvicina a Hope e abbracciandola, la ringrazia per essere la sua damigella d'onore Nel frattempo Fini scompare nel nulla e inizia la sua ricerca, con Steffi che prima controlla i bambini insieme a Jack In questo frangente scoprono qualcosa in più su Stefani. Si vedrà poco dopo che Sheila spiega a Fini quanto sia stata dura per lei darlo in adozione e di aver scoperto di lui, solo dopo aver letto del suo matrimonio con Steffi A questo punto il giovane vorrebbe presentare Sheila a Steffi e ai Forrester, ma la donna non pensa che sia una buona idea Fini presenta Sheila a tutti i presenti.Fin che ormai non riesce più a trattenere le sue emozioni rientra in casa e annuncia a tutti di aver incontrato una persona straordinaria Quando Sheila entra in scena, Eric, Brooke, Steffi e Ri rimangono sbalorditi nel vederla È Fini troppo chiaro che hanno dei trascorsi. Fini è confuso e si chiede quale sia il problema Fini, nonostante questo chiede alla donna di unirsi al ricevimento, ma i Forrester si oppongono, chiarendo che non è degna di fiducia e vogliono che se ne vada immediatamente Fini, sempre più confuso ascolta le parole di Sheila che continua a ribadire di essere la sua madre naturale e di averlo visto crescere da lontano Jack alla fine conferma che quanto detto da Sheila è vero. Steffi è inorridita nello scoprire che Sheila sarà la sua vera suocera Ma arrivano ulteriori colpi di scena con Steffi che non permette a Sheila di essere sua suocera e nonna di Hayes, arrivando a schiaffeggiarla Poco dopo Steffi chiede che fin di non rivedere né risentire mai più la donna Grazie a tutti! 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 Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente